Ciao a tutti ragazzi, io sono Chloe ed oggi siamo tornati su The Sims 4. Allora, ce l'avevamo lasciati che avevano la giornata libera, quindi... No, vai, lascia stare che ci penso io, così accumuliamo un po' di soldini. Non ripara. Ho la sentenzione di spendere soldi per sostituire o chiamare qualcuno per farlo nel posto tuo, quando lo puoi fare tu tranquillamente. Ok, allora, direi che... Non so, andiamo... Dai, ogni volta mi dimentico che c'è questo edificio qui che rompe un po' le scatole. Allora, per lei, perché passi in realtà, mancano 71 giorni e diventa adulta. Lui invece... 69, va bene, lui è sempre comunque un giovane adulto, sì. Va bene, no, più che altro perché non voglio che siano troppo vecchiotti per avere dei figli e quant'altro. Allora, niente, direi che oggi con loro possiamo andare tranquillamente da qualche parte. Aspettiamo che lui finisca un attimo qui. Allora, trova dei componenti. Sì, lo so, è scorso. Dai, trova i componenti che poi andiamo da qualche parte. Forza, Joaquin. Dai. Bravo. Ok, fantastico. Niente, allora direi che possiamo... Viaggiare, ovviamente, con Noemi. E andiamo. Vediamo. Dove possiamo andare. Allora, non so, potremmo andare a Brindleton Bay una volta, mamma mia. Non so. Allora, ora possiamo andare al parco. Allora, qua più che altro è per per i cani, è una parte qui. No, magari potremmo andare qui, dai. Perché volevo vedere anche il faro. Ed eccoci qui. Ecco, ovviamente si è cambiata perché fa caldo, quindi... Sì, molto caldo, guardando... È proprio un caldo incredibile. Allora, vediamo. Non ci sono mai stata qui, quindi non... Ok, qua si può pescare. Allora, potremmo mettere un attimo pausa, così il tempo non scorre. Quindi qui abbiamo questo museo. Ok. Qui c'è qualcuno che dipinge. Anaya Yang. O Zhang. Perché qua si sale, ma qua non si può fare niente. Va bene. Ok. Un po' assurda come cosa mettere... Tavolini non può neanche mangiare. Va bene. Allora. Io quasi quasi sistemerei un attimo. E ci metterei, che so, un frighetto. Ok, ci vediamo quando ho fatto. Ok. Ok, ho messo un semplice frigo, giusto perché abbiano qualcosina da mangiare, se per caso dovesse capitare qualcosa. Allora. Vediamo un po'. Ah, qua c'è questo per fare i gavettoni. Che bello. Vai. Vai a riprendere con i gavettoni. Magari... No. Tu mi ci scava qui un attimo. Ok. Allora, disputa una lotta con i gavettoni, con... Non c'è chi... Ah, c'è anche il giocatore. Allora vai. Vai. Ma veramente c'è anche lei. Sì. Ah no. Se fosse lei... Eccola qua. Non pensavo ci fosse anche lei. Questa è Eva. E questo è... E questo è... Jeffrey Ladrab, ok. Lì, invece è... Aiccia. Chaffic. Va bene. Ok. Benissimo. E' giocosa. Gioco con i gavettoni. Per lotta con i gavettoni. Le lotte con i gavettoni rappresentano un modo divertente per infrescarsi quando fa caldo. Beh, oggi è una giornata... È un'ondata di caldo oggi. Quindi figuriamoci se non va bene giocare un po' con i gavettoni. E' un po' un po' bambini. Oh, aspetta perché è troppo caldo. Calore letale. Va bene. Quindi c'è bisogno di ombra. Quindi io direi che potete andare a sedervi qui insieme. Se lascio stare qui non giocate più. Basta. Andate all'ombra. Per carità che mi manca solo che a giù... Mi prenda un'insolazione. Non sia mai. Allora, io direi che possiamo, che so, parlare un po'. Dai, solettica senza pietà. Rallegra. Sussurra smancerie. Facciamo anche che sia anche un po' più bella che voglia. Un bacio. Un assalto. Amoreggia, ma sì. Rallegra. Mi fa paura giocoso che non vorrei che ridessero un po' troppo. Si è tutto bagnato. Da dove arriva? Va bene. No, no. No, no. Questa è la roba di causa dell'attroperatore. Quantissimi. Si accadono troppo, non devo stare abiti leggeri. Ah, ok, ok. Allora, mettiti gli abiti leggeri. Non ce li ha gli abiti leggeri, scusa. Sono questi, no? Si. Allora, mettili. No, no. No, no. No, no. Quindi adesso volendo possiamo stare fuori. Qua immagino che non c'è un bagno, vero? Eh, invece sì, ok. Direi che puoi andare un attimino al bagno. Tu invece... Eh, anche tu. Assolutamente anche tu. Ok, stavo per vedere se... Se anche questa andava al bagno oppure no. Ok, andate al bagno tutti e due. Ok, ovviamente. Allora, lavati le mani più volte così. Anche tu, visto che ci sei, lavati più volte le mani così. Non serve che vi fate la doccia, per così dire. Ok. E niente, ho... Piccolo... Randaggio, spillo. Ok. E niente, quindi questa qui... È la zona del faro. Osservacini. Ma prima o poi riusciremo ad avere una casa, vera e propria. Dove poter coltivare qualcosa. Sarebbe carino. Ok. Ma... No, qui. Vai al piano superiore. Proviamo. Anche tu. No. Vai al piano superiore. Vediamo. Ok, adesso avete i vestiti... Oh, un piccolino. Oh, carino. Proprio carino. Sembra... Sembra quasi... Zack... Della Sabri. Piccolo. Oppure Goggo. Ma questo qua è adulto, quindi sembra più... Più il piccolo Zack. Piccolo. Ok, quindi. Ok. Hola. Ed eccoci qua. Ma io non ci credo. Ma sono serio? Vabbè, potremmo farci un pensierino, ma magari non proprio adesso. Niente. Quindi non si può fare niente, quindi non so. Vai qui insieme. E godetevi... Spino? Yeah, froze! Ma non avete una macchina fotografica per farvi che so una foto ricordo, no? Ovviamente non sia mai. Va bene, dai. Ci ritorneremo allora, magari... Che so. Più avanti. Raccontano a barzelletta, graffi. Magari usiamo questa... O una o l'altra, decideremo. E... E niente, magari... Prendiamo la macchina fotografica e ci facciamo un po' di foto, così se non altro o meno abbiamo... Diversi ricordi. Ok... 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 Grazie... Ok... Grazie... La limitazione... Oh, Samblharthic... Spone... La allegra... Ah! Wabba Boy! Wabba Boy! Ah! Ah! Ma... Graciao! Blablablabla! Finalmente è quello un po' di caldo. Si dai, è stato caldo prima, quindi... Complimentati per l'abito. Può provare a fare chiedi di diventare la fidanzata, visto che siamo in un posto così... Un po'... Un po' romantico. Visto dal faro, per essere dal faro, il panorama mozzafietto che si gode dal faro di Bridleton ha sollevato il morale di Joaquin. Oh! Maplever! Bimba! D'Arma! Garza! Uh... Ups! No! Ecco qua! Uh... Buona! Già che lei non è nata per l'antica di Noemi, quindi di conseguenza... E c'è verza! Oh... Oddio! Aiuto! Ah! 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 Non so! Ah! Mi pare un pochino più voluminoso, se è più che sui fianchi forse sbaglio, io non lo so. Ok, non lo so. Già? Ah! Che potremmo fare anche solo fucchi fucchi? Abbiamo 4.000... Mmm... Vorrei avere un pochino più... Non so, nemmeno gli assi! Se fare in modo che vadano ad abitare in una casa, normale, oppure avere... Cioè, sempre trasferirci comunque, perché in quella casa lì è troppo piccola per avere dei figli. Eh... Figlio o figli. Cioè, in ogni caso non c'è spazio. Eh... Non lo so. Eh... O una casa, o un appartamento più grande. Eh... Lì... Bisognerà decidere un po'. Bavini. Intanto loro continuano a chiescerare. Rallegrala. Stringila. Complimento sincero. Stringi un caffetto, visto che ci siamo. Come vedere che interazioni ci sono. Cioè, che deve avere un silenzio. Direi di no. Vediamo. Ma cosa c'entra se abitano insieme? Vabbè. Ma, professore amore eterna, dai. Abbiamo fatto il cuore delle nozze. Noi... C'entra. Ma, non è così fuori delle nozze. Non so. Ma, non è così fuori delle nozze. Ok, noi cercare lui Sme. potremmo organizzare sempre con loro due e non so andare a ristorante ma quasi quasi allora eccoci qui e niente andiamo un attimino qui dentro ho deciso per questo anche perchè erano andate nell'altro però il problema è che visto di quella realtà che jesminder e forse anche arun allora lei di sicuro è vegetariana però presumo che anche lei ok allora bene abbiamo qui questo ristorantino qui che ho messo io e poi l'ho un pochino sistemato perchè era un pochino diverso non l'ho fatto io e niente è fatto praticamente così adesso non so perchè si vedono così sti tetti però vabbè ok allora direi che ci prendiamo un tavolo ovviamente qui no anzi facciamo questo qua che dì? tavolo no guardate un po' chi c'è c'è Mirta perchè no ok abbiamo risolto ho semplicemente spostato qui indietro questo benissimo ok non andano tutti quanti qui oh calmatevi ma io non ho più visto il tavolo ah ok ah si vedi insieme vai benissimo bene quindi direi subito di ordinare per il tavolo di non perdere troppo tempo perchè già sono le 9 quindi allora vediamo e direi di prendere dai facciamo vino rosso per tutti ok allora ricordiamoci che lei è vegetariana anzi no scusate un attimo fatemi un attimo vedere lei dovrebbe conoscere tutti e due bene quindi allora lei è vegetariana ok e Aaron? ok perfetto no perchè manca solo che che sbagliamo a ordinare per anche per Aaron e poi sta male vorrei evitare questa cosa allora il vino lo possiamo bere tranquillamente allora vediamo allora questi sono la viale vegetariani vediamo un poco allora l'insalata caprese mi pare un po' brutto voglio mangiare questo cos'è? ah vato i vegetariani perfetto allora io direi che lei si mangia questo vediamo di me per dargli qualcosa di diverso che ok questo no però questi ma come no? gli voltini primavera dovrebbero essere solo di verdure vabbè non importa questi ok quindi allora questo può anche in Samosa allora io direi che tutti mangi invece in Samosa e per quanto riguarda Ava è che abbiamo anche mi direi che partiamo con un attimino l'antipasto e poi vediamo un dimensore qualcos'altro allora ravioli vegetariani per te ok no anzi no non facciamo roba vegetariana però allora dai facciamo questo per lei ok e asparagi avvolti nel prosciutto per lui ok intanto mangiamo questo che chiediamo per bene quindi amichevole e devo cercare di conoscere un po' meglio Per favore, chiedi la carena e mi ricordo se l'avamo già chiesto. No, ancora no. Benzi. Ok, e volevo vedere se riusciamo a trovare... Ah, volevo fare conversazione per Fono, tanto mi basta una per lei. Lui invece ancora non sappiamo niente. Vediamo chi è della carriera. Vediamo un po' se riusciamo a scoprire... In questa serata se riusciamo a scoprire i vari tratti di Arun. Ok. Benissimo. Però non abbiamo scoperto l'altro tratto di Gisminder. Quindi, non so, vediamo qui. Ah, fantastico. Già arrivato di Gisminder. E' molto veloce. Cierre. Normale. Eccellente. Eccellente. Normale. Eccellente. Eccellente. Fatalità lei, scadente. Ah, non ne scrivelo. Rocco, è lui sfrega. Abbiamo un rischio senza farlo. In questo caso, non c'è la carriera. Sì, ma, mi viene! Iscrivelo! Iscrivelo! È un rischio di grigio, ma, non c'è la carriera! Ma parola, non c'è la carriera. È l'ora, non c'è la carriera. C'è la carriera. Il grigio di è! Un rischio da la carriera. E' un rischio, non c'è la carriera. Ma, non c'è la carriera. va bene dai, non è andata così e non è andata così vabbè non importa dopo si va troppo tardi si vieni per il tavolo si perchè mi scoccerebbe un attimo perchè allora prendiamo il piatto principale sperando che sia buono stavolta allora arrosto a corona lo prenderei anche però se poi anche se è scelto dallo chef poi magari viene una schifezza allora vediamo perchè ho messo proviamo dai proviamo così magari se riesci anche a imparare a farlo sarebbe una cosa bella allora questo lo puoi prendere tu poi vediamo finocchio alla noce ok sono andati i vegetariani questi eeeh vediamo no no fai una bistecca semplice lui dai bellissimo ok tu non 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 Saba, Shade, Nukoi, Vinfahev, Vadish, Forzaf, The Yaza, Subowena, Conflibodama, Subowhaveri, Ofra, Nibahana, Arvo, Vinnie, Aquar, Jabba, Klanar, Klanar, Jorvin, Dekul, Flerna, Merkin, Kwanofa, Piguna, Skamaj, Pempini, Kwanofa Benissimo, quindi abbiamo scoperto tutti i suoi tratti, ora dobbiamo semplicemente scoprire gli altri bruni armi Let's see Arvo, Vinnie, Aquar, Jabba, Klanar, Flerna, Plova, Siva, Arpanaia, Umfra, Filpa, Shursunitva, Oh, come ora rifarlo di nuovo Qui intanto, per favore, ehm Ripulisci questo e ripulisci questo, perché non mangiano Sì, 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 sto rimediando Anche questo Anzi no, non verlo, ripuliscilo, eh Oh, lei sta facendo veramente tardi Oh, lei è stanca Dai, ce la possiamo fare Nooo, dai Ma che è? Ma sei proprio stupida, oh Per favore, parla con loro, non ci consone Per favore, parla con loro, non ci consone Lei è il Dui Fujita E questa invece è Kalamainu Yona Questo di sicuro è il nome preso dall'espansione Vita sull'isola, poco ma sicuro Ah, ho stato, vedi di farlo cadere, eh? Mi raccomando Oh, ho, 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 ho. Sblichiamoci a fare stata una donna, sono le quattro e mezza del mattino, dai, su. Ah, mi è annoiato, bene. Ah, vabbè, sì, dai, mangiamo. Perciò di mangiare. Mangia. Non hai fame? Benissimo. Abbiamo speso un sacco. E per cosa, per niente, perché non ho scelto tutto qua. Eh, è scorco, lo so, ma non vengono pulite, quindi... Vai, finisce il piatto. E' male questa. Ok, mi aspetta il piatto. Gabba, Gabba, Pomeray, Quaz. Ah, sì, me lo ricordo questo, questo è un tritone. Ok, io direi che ci siamo, a un bacio, a casa. Voi rimanete pure qua. Addio. 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 Benissimo. Vabbè, nota un po' da schifo, notare la sua faccia. Va bene, mamma mia, è presa malissimo. Va bene, io direi che possiamo salutarci qui con questo bellissimo primo piano della nostra Noemi. Poverina. Allora, io adesso, appunto, visto che volevo fare queste cene, diciamo, mangiare fuori, eccetera, eccetera. L'abbiamo fatto. E niente, adesso io vedo di sistemarli tutti e due. Cioè, lui mi pare comunque felice. L'unica è lei che è molto a disagio. E niente, adesso io ovviamente bloccherò il tempo e vedrò di farli salire con la carriera. Cioè, giocherò praticamente off camera in modo che loro possano salire di livello, ma non, cioè nel senso l'età, non scorrerà, quindi non invecchieranno. E niente, così possiamo accumulare un po' più di simoleon e riuscire a poterci trasferire, perché sennò veramente qui non riusciamo più a tirare avanti. E niente, quindi, tutto qua. No, veramente, mi fa, mi fa, mi fa una tenerezza, poverina. È stata proprio una serata bruttissima, Noemi. Bene, e niente, se volete commentate, mettete, mettete un like. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Grazie. Ciao a tutti. Grazie a tutti.